A noi atterriamo tutti i divisi, atterriamo. A noi atterriamo gli sporconi perchè da me che non ci vado. E dopo che non ci vado. Anche a grande asciaio. Molto franco. E franci non mori per favore. Va bene. E muori. Ragazzi. Ho trovato di nuovo una cassa. Bello. Tu dove sei atterrato? Sei inspeccionato con Johnny. Vi accomodano i comedianti. C'è un nemico qua. Ragazzi. Ragazzi. Questo personaggio. Cioè me l'ho. Sto arrivando. L'ho sbocato quello di porra. La banana degli dei. Stavo con chi di livello incredibile. Va bene. Le ali di Icaro. Ma lo sa che i bambini ci fanno? Che un bambino va nel 30 ottobre. Ragazzi. Se state un po' fermi magari vi raggiungo. I. 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 Lo fai io. Io ho trovato due cassa. Una cassa. Di nuovo. Io ho trovato. Io ho trovato. Io ho trovato. Io ho trovato. Un quintiglione di casse. Gianni. Gianni. Dimmi. Fai il potere di Zeus. Eh. Non mi serve più il potere di Zeus. Allora dove sono io. Ragazzi ha fatto una missione. Arrivo. Dannecci degli Eversaifern. Armi di rarità. Rana o l'epito. Io ho trovato ciocco perico. Ma dove siete? Ma siete a piazza piacevole? A. Scalini. Scalini. O. Cio. Ti. Ho… Tu. Tipo una per se chi si amicava. Un domenico. Ragazzi! Eh. Sono arrivato. Bene. Bravo. Complimenti. Bravo. Un viaggio lunghissimo. Un bezza po'. E' stato faticoso. Non ci posso. ah ragazzi ragazzi c'è uno da me, c'è uno da me non morì l'ho eliminato grande ma c'è caso che stai giocando una spazia perché sei dovuto il cfd draw stars johnny dimmi sto arrivando sei già qua c'è un angelo eccomi ciò johnny dietro sto prendendo la roba io eeeh angelo vuoi poteri di zeus no jess fa raga allora me li tengo io c'è la giudice e saremmo con il mio potere chi ne vuole uno col mirino quale mirino eeeh mirino rotondo eeeh no mi serve il termine com'è vai bene io guardo aspetta andiamo qua su eeeh 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 tenta spari a nord ovest spari a nord ovest spari a nord ovest spari a nord ovest dietro angelo dietro si ti vedo eeeh eeeh mi sparano eeeh 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 non ce li ho l'impulso ce li ho io ce li ho io va di attacco eeeh 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 arriviamo ok c'hai c'hai un medikit c'hai un medikit c'ho tre di vita c'ho tre di vita me lo dai non 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 siiii niente adichitta niente ci sono ci sono 3 medichittit 3 medichittit ci sono i medichittit perfetto no tutto l'acqua sono veramente buono ma io questo è al minero termico si è al minero termico il mio amore il mio amore il mio amore già mi hai visto cosa ti ho fatto cosa non è così ah va bene si ma sei ma sei ma io ho capito mica 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 che siamo soldi eh voglio buttare con lui o io vuoi buttare con lui 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 io vi sto sorvegliando la zon con il mirino per il mio amore io ho ho parlato in città e mi 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 piace più la skin femminile però non la prendo lo stesso qua vuoi vuoi il mezzo spartare mi ti 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 pari a 120 120 visto 156 119 ho visto anche le costruzioni delle viste il volo corre corrette corrette angelo giudicato carica ma non vuoi tu un pompa ma c'è il giallo Uccisi Eh mi dì Un'altra in macchina Mi hanno quasi ucciso Sì Chi si Tutti Tutti ci si Tutti ci si Tutti ci si Ucciti Eh Johnny Johnny Eh Johnny Quanto sei forte da 1 a 100 Su battaglia reale Boh Che ne so io mi son mai dato un voto Johnny Eh Vieni in macchina Vieni in macchina La macchina fa confuglione La macchina però fa il rumore E senza i nemici con me Poi tagliare serve per andare Pian piano e la scosso i nemici Poi uccidere il cazzo d'auto E festeggiamo La macchina La macchina La macchina tu Anzi Anzi Bene me lo prendo Oggi è 9 Ok Boh Che ne so Ho il 10 Azzabella 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 Aspettate che lo Si 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 tutto è posto Tutto è posto Eh manca 25 di danno con l'Araldo Poi devo portare la missione Io lo sarei stato con un'arma La macchina rioffata in quel Quello di prima Che non aveva forse più ucciso E forse è più Un'altra Sotto Un'altra Ma Qui ci sono dei bidoni Se avete fatto un po' di scudo Ah A me non serve solo un Blu O l'ho rumpato Ma Sopravvivere ai giocatori Possendendo l'aspetto degli dei Come si fa? Autoblù Corrocorino Facendo l'ha messa lì L'alala L'ho messa lì L'ho messa l'alala qui alla mamma mia spari a nord est su desto camminando camminando fino all'alba it's easy it's no easy dici e sette siamo in dici e sette est 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 75 gradi mi ascolto mi ascolto se lo stupo aim i se lato uno non marzo i ma non no ha preso il volo e vabbè 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 31 ma che sta sparando con L stai sparando con il mirino L2 Angel appena ti riavvio vai subito la prendi quello che devi ah ora mi riavvi prendi tutte le lute eh si prendi tutto quello che ti serve no prendo tutte le lute che avevo prendi tutto quello che ti serve attenzione attenzione lasciatemi tutto questo qua oh Gianni dimmi ah 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 ne ho cento cento sessantuno che io non so se se tipo me ne puoi dare qualcuno allora allora basta basta no grazie prego ciò vi abbia stato se tipo ne ha bisogno io ho 497 all'inizio guarda adesso 512 i suoi stati malistosti quegli altri ma uno è volato via potevamo ucciderlo però è volato via ah io io il mirino però quello proprio cortissimo e riguardiamo tutto e riguardiamo tutto safe oh Gianni si sto ricaricando ah quando vuoi quando non parla che è proprio giusto vuol dire che è andato via ah quindi hai smesso di giocare si io non ti vedo più nella mappa però ti vedo il nome oh bug bug a fluida vabbè guarda me quali 34 è un piccione come scritta no il piccione no il piccione la piccione la vede proprio lo scherzo e poi era sempre i piccoli e poi qua e te era uno hai errato quasi morto grande rianimo ok vai 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 corri 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 ok perfetto la corona no non serve a me tanto stato quello può essere bingiamo quindi non chissi ma chissi però se noi siamo troppo forti eh non lo so se se non siamo più che ci sono io siamo aspetta siamo quattro team tutti tutti da due tutti da due no siamo due contro contro tre no sono quattro team 2 2 2 2 2 2 2 3 team noi due 5 siamo 5 5 siamo 5 in tutto un altro team che è formato da 3 foto 5 più 3 foto sembra lì c'è scritto quattro team quattro team sono sette adesso siamo in sette e sono anche prima io vedevo 8 e voto c'era 4 comunque la 4 si niente si sparava da questa paura sparirà dall'altra parte ma c'è la sei inferno si vede un dall'altra porta no bravo la seppola non andare io vorrei prendo 6 parametri spari e piccione Dio sei? C'è un disegno di te Cosa tu hai ragazzi? Uccite? Siamo 2-1-1 Dice no È morto quello Manca l'ultimo Manca l'ultimo Poi c'è una porta Vittoria Vittoria